Atteso da più di dieci anni, Diablo 4 ha l'ingrato compito di raccogliere un pesante incarico, quello di conquistare un pubblico che è ormai cambiato e non si accontenta più dei marchi. Ce la farà? Per sondare l'umore degli appassionati, Blizzard ha pubblicato una beta della sua ultima fatica che include l'intero primo atto, tre classi e un boss mondiale. Beta su cui noi ci siamo fiondati subito. La build che Blizzard ha proposto per questa prima beta aperta è pressoché identica a quella che abbiamo avuto occasione di testare lo scorso autunno, perlomeno in termini di contenuti. È stato possibile completare il primo atto della storia esplorando solo la gigantesca mappa delle vette frantumate, ma anche così la nuova creatura di Blizzard promette di essere un titolo mastodontico e ricchissimo di contenuti, sfide e obiettivi. Il passaggio è una formula che potremmo definire MMO Lite con tanto di pseudo open world ci accolti alla sprovvista, ma bisogna ammettere che offre un sapore più moderno rispetto al passato, promuovendo l'esplorazione e ingolosendo il giocatore in cerca di attività, nemici da massacrare e bottini da depredare. La varietà dei contenuti è comunque ancora tutta da verificare. Fermorestando che siamo di fronte a un gioco che si esprime soprattutto nel suo endgame, gli obiettivi perseguibili nelle prime ore di gioco sembrano piuttosto standard. Escludendo la campagna principale si tratta perlopiù di accettare e completare incarichi secondari che ricordano anche troppo le missioni di raccolta degli MMORPG vecchia scuola, sia chiamati a partecipare a eventi occasionali che si somigliano un po' a tutti, oppure a sgominare i nemici nelle spedizioni che ricompensano il giocatore con gli aspetti, nuovo collezionabile destinato a diventare parte integrante del gameplay. I nuovi alberi delle abilità rigettano le semplificazioni introdotte in Diablo 3 per abbracciare un modello più vicino a quello di Path of Exile. La componente MMO ricorda l'ecosistema di Lost Ark ma ridimensionato. Seppur vasto tanto da includere le cavalcature, il mondo di Diablo 4 è infatti funzionale a un'esperienza che gli sviluppatori non intendono snaturare, bensì attualizzare. Il terzo episodio è stato accusato di essere troppo colorato e cartunesco, con la compagnia di Irvine che sembrerebbe aver incassato il colpo. Il quarto capitolo ha infatti un titolo molto più opaco in termini cromatici, più cupo, sporco e sanguinolento. I modelli 3D sono dettagliatissimi, massicci e animati splendidamente, e l'atmosfera è ancora più inquietante, oppressiva e minacciosa. Anche uscendo alla luce del sole tutto si presenta grigio e realistico, e gli effetti particellari che caratterizzano incantesimi e abilità appaiono più contenuti ma non meno curati. Tuttavia il codice non ci è sembrato ottimizzato al meglio e lo stuttering importante su diverse configurazioni ha rafforzato i nostri sospetti. Per fortuna la nutrita schiera di impostazioni rivela un gioco scalabile a più livelli e possiamo solo sperare che già la prossima open beta rappresenti più fedelmente la versione finale prevista per il 6 giugno. La colonna sonora non ci è sembrata particolarmente memorabile. L'atmosfera che crea è quella giusta, ma non c'è una sola traccia che rimanga impressa o che colpisca in modo particolare. La narrativa invece ci ha sorpreso positivamente. La nuova storia che ci coinvolge nella faida tra l'arcangelo Inarius e la demonia Kalilith affonda le radici nella mitologia della saga ed esplora il cosiddetto conflitto eterno in cui è intrappolato Sanctuarium. I dialoghi sono ben scritti e le scene d'intermezzo girate con sorprendente piglio cinematografico. Il primo atto si mantiene interessante per tutta la sua durata, introducendo personaggi enigmatici e piazzando qualche colpo di scena prevedibile, ma efficace. In termini di gameplay il titolo catapulta subito il giocatore nel suo loop, e le ricompense sono di tutto rispetto. La frequenza con cui si trovano miglioramenti sembra generosa, e ci ha permesso di vestire i personaggi con una velocità più che discreta. L'interfaccia è chiarissima, limpida e scattante, divisa in schermate di facile consultazione richiamabili attraverso varie scorciatoie. Tuttavia, a lasciare perplessi è il modo in cui Blizzard ha disegnato i nuovi alberi delle abilità. Ciascuna di queste si può potenziare o evolvere scegliendo tra diverse alternative, ed è chiaro che questo nuovo approccio ha due scopi precisi – garantire al giocatore un controllo maggiore fin dai primissimi livelli, e favorire una riflessione più tattica e ricercata delle configurazioni. A sollevare dei dubbi sono la schermata e il meccanismo di assegnazione, ripristino e ridistribuzione dei punti abilità, che oltre a essere alquanto farraginoso, dal livello 15 in poi si fa anche dispendioso. Ogni funzionalità o servizio, come quelli che offrono infatti il fabbro, l'occultista o l'alchimista, si paga in oro, e già all'inizio si rischia di restare al verde con una velocità impressionante. Il nuovo sistema degli aspetti promette un livello di personalizzazione inedito. L'occultista si sblocca prestissimo, e permette di conferire a un equipaggiamento comune una proprietà speciale acquisita alla fine di una spedizione, oppure estratta da un oggetto di qualità leggendaria. Si tratta di una procedura mediamente costosa, ma intuitiva e potenzialmente fondamentale. Così com'è fondamentale l'iscrizione al nostro canale, in modo da rimanere sempre aggiornati da qui all'uscita di Diablo 4. Le classi disponibili nella beta attraverseranno di certo molteplici rivisitazioni prima del lancio della versione definitiva. Noi abbiamo giocato fino a livello 20 con il Barbaro e l'Incantatore, due classi che abbiamo ritrovato in forma invecchiate bene con le loro abilità storiche e qualche nuovo asso nella manica. Ad esempio l'Incantatore può assegnare le magie apprese agli slot contrassegnati come incantamenti per sfruttarne gli effetti aggiuntivi mentre combatte a distanza. Il Barbaro invece ora equipaggia quattro armi contemporaneamente, un'arma a due mani da taglio, una a due mani contundente e due armi a una mano. Le abilità base impiegano queste ultime per generare la furia, una risorsa da spendere nelle abilità primarie con le armi a due mani, con il Barbaro che guadagna un bonus a ciascuna arma via via che le usa per combattere, come fosse un arsenale vivente, insomma. Blizzard ha disegnato ogni classe ispirandosi agli archetipi originali, ma allo stesso tempo ha inventato qualche nuova meccanica che svecchia la formula collaudata, strezzando l'occhio alla personalizzazione. Bilanciare questo ben di Dio sarà un'impresa titanica. Nella beta l'Incantatore è devastante per la sua capacità di sciogliere i nemici a distanza, mentre il Barbaro ci è sembrato meno soddisfacente da giocare, specie negli scontri con i boss. E sono proprio questi scontri ad apparire molto più interessanti rispetto al passato, con meccaniche che spesso obbligano a ragionare e a rivedere gli alberi delle abilità. Ciò nonostante è visibile una certa discrepanza tra le esplorazioni e queste battaglie finali. Le spedizioni ci sono sembrate alquanto semplicistiche, con urte di nemici molto facili da sconfiggere e una generosa distribuzione di ampolle curative extra, ma di fatto manca l'interattività. Non ci sono leve da tirare per schiacciare i nemici o elementi che si possono distruggere anche solo a livello scenico. Ad eccezione di qualche sporadico rompicapo da risolvere per proseguire, si arriva ai boss, ed è qui che cominciano i veri guai. La componente multigiocatore resta un'importante dimensione del nuovo titolo targato Blizzard, se non altro perché ora saremo costretti a condividere Sanctuarium con amici e sconosciuti che potrebbero partecipare agli stessi eventi, come per esempio i boss mondiali. Noi abbiamo avuto occasione di affrontarne uno, il gigantesco Demone Ashava, un'esperienza che richiede un buon numero di giocatori di livello adeguato per essere compiuta entro il tempo limite. Un elemento che solleva nuove incognite sui contenuti che potremo affrontare da soli al 100% e su quelli che ci obbligheranno a fare squadra. Quindi quanto inciderà la componente multigiocatore sull'esperienza finale? Blizzard dovrà trovare una quadra praticamente impossibile, ma questo è solo un altro degli ostacoli che Diablo 4 dovrà superare lungo il percorso che lo condurrà all'uscita. Non solo, si tratta anche di capire a che tipo di pubblico vuole rivolgersi il titolo, a un'utenza più casual come fece il suo predecessore o a quello zoccolo duro che ha cercato altrove la cura morbosa per i particolari. E una via di mezzo è praticabile oggi in un settore che si fa sempre più confuso, complicato e difficile da soddisfare? Staremo a vedere. Secondo voi che strada prenderà Diablo 4? Diteci la vostra nei commenti, mentre qui a fianco trovate dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!